La campagna resta in zona gialla dopo le valutazioni fatte nella giornata di ieri dal ministro della salute e merito ai dati forniti dalla regione. Nessuna sorpresa per il governatore. De Luca infatti ha precisato che fin da lunedì sera era conoscenza della conferma della campagna nella fascia gialla d'Italia. Vedo che sugli organi di informazione si è creata un'attesa di decisioni riguardanti la regione campagna. La collocazione di fascia della campagna è già stata decisa ieri e ha commentato sui social il governatore dopo la comunicazione ufficiale giunta in serata a fronte della piena rispondenza dei nostri dati a quanto previsto dai criteri oggettivi fissati dal ministero della salute. Ho sollecitato io un'operazione di trasparenza pubblica in tutte le direzioni per eliminare ogni zona d'ombra anche fittizia dunque non c'è più nulla da decidere e da attendere. Riconfermo altresì che sulla linea di regore sempre seguita dalla regione solleciterò nelle prossime ore e nei prossimi giorni il ministero dell'interno della salute ad assumere provvedimenti rigorosi per il rispetto delle regole e il contrasto all'epidemia. Non sono assolutamente tollerabili immagini come quelle del lungomare di Napoli o di strade e quartieri abbandonati a se stessi nei quali si continuano a violare le norme senza che nessuno di quelli che hanno il dovere di impedirlo muova un dito. De Luca conclude dichiarando non è tollerabile che il lavoro straordinario fatto sul piano sanitario ospedaliero a tutela della vita delle persone sia inficiato da un contesto ambientale che si muove nel segno della irresponsabilità istituzionale e comportamentale. Chiara l'ha stoccata nei confronti del sindaco di Napoli De Magistris. La collocazione in zona gialla della campagna non è secondo De Luca una sorta di liberi tutti. Tornando sulla chiusura del lungomare nel fine settimana ad esempio il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha chiesto ai suoi concittadini un atteggiamento più responsabile invitandoli ad essere prudenti a limitare le uscite e le occasioni d'incontro.